Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo videoblog. Allora, oggi è venerdì 18, sì, perché ieri ho iniziato il corso di Cresimo, e sì, perché stasera mi devo fare anche lo shampoo. Mi stavo scrivendo qualcosa nella mia agenda di Tiger, questa qui, vabbè, l'ho decorata a modo mio, perché, vabbè, stavo scrivendo le cose qui, e ho trovato questo foglio, che praticamente c'era scritto il video che dovevo fare, perché era tanto tempo che volevo fare l'aggiornamento di casa matrimonio preparativi, solo che non l'ho fatto più perché non ho avuto tempo, e, vabbè, che ci sono, vi faccio vedere, questi di qua sono le, le card, chiamole così, di Mo, mi sono arrivati da un bel po', e ne ho altri qua sparsi per il cassetto, vabbè, quindi, ieri ho iniziato il corso di Cresimo, il corso matrimoniale l'ho finito, mi ho dato anche l'attestato, se lo riesco a prendere, ve lo faccio vedere, ho le mani che mi fanno male, quindi, cioè, allora, questo inverno, proprio, li sto odiando, mi devi tagliarle e stare senza mani, perché ogni volta che tocco faccio gli sbatto e di, cioè, mi viene tipo, va bene, ok, non sono riuscita neanche a levarmi l'anello, la fedina l'ho tolta, ma l'anello non esce, perché è doppio e mi si ferma, qui. comunque, ho avuto l'attestato prematrimoniale, quindi poi quando finisco la Cresimo mi apro la pratica e faccio la pratica per il matrimonio, sono ancora in pigiama, vabbè, non fate caso, ma lì alla luce mi stavo portando, e dopo tanto tempo che io non potevo mettermi i rossetti, perché avevo l'herpes, ieri, che c'era il corso di Cresimo, ho detto, vabbè, lo metto, ho messo questo di qua, l'Avon, dell'Avon, è quello matt, è bella la confezione, perché è tipo, tipo con mato, c'è anche la finestrella qui, comunque è questo qui, il Berry Blast, questo colore qui, è più tipo un mattone, no, perché c'è un punto di rosso, ma è un marroncino, tipo vinaccio, però comunque bellissimo, e sto usando, siccome dopo che l'ho messo, neanche il tempo di far guadire le labbra, e ho messo un matt, quindi potete capire come sono le mie labbra, e sto usando questo balsamo labbro della Cien, vabbè, io volevo fare un video vlog, che vi facevo vedere tanti giorni, infatti inizio di venerdì, ho detto, prendo qualche cosa di sabato e domenica, e poi lunedì lo caricavo, vedremo, perché già siamo a 4 minuti, dovrei tagliare qualcosa, comunque va bene. Oggi è 19 sabato, e ieri alla fine non ho registrato perché sono andata a casa dal muratore, e non dovevo dare, diciamo, retta a lui, e anche perché mi sono andata a pulire la scala a casa mia, quindi non ho avuto proprio tempo. Comunque vi sto facendo vedere il macello che ho in bagno, cioè nel bagno di mia madre, no io, a casa mia, ma da mia madre, perché ho comprato le ultime cose, sì, perché avevo ordinato alcune cose e mi sono arrivate tipo i quadretti, i quadretti, sì, i quadrati, i quadrati, vabbè, questo me l'ha presa anche mia madre, una pezza, i quadrati, poi mi è arrivata anche la batteria, i miei fantastici pentole, fantastici pentole, ok, sono in bianco e in rosso, quelli giornalieri, proprio questo non mi è arrivato, ma l'ho preso quel giorno stesso, quando ho ordinato queste cose, ho fatto anche qualche acquistino da Piazza Italia e Dettaglio Veloce, che ancora non ho fatto vedere e non so quando posso farli vedere, perché ogni volta mi sfugge, poi ho imballato alcune cose, ma lasciamo perdere. Ieri al mercato ho comprato il copriasse, tutto così, che carino, si vede anche di qua, perché è trasparente il sacchetto. Vabbè, non fate caso se esce fumo, ma vabbè, ho messo la crema, quella che uso di solito io, che praticamente è questa, per pettinarli, oltre al balsamo che ho messo sotto la doccia, ho messo anche l'olio alle punte, vabbè, ci vediamo dopo quando ho finito di fare la piastra. Ciao! Allora, sono pronta, mi sono fatta la doccia shampoo, la piastra, l'avete visto? Due secondi fa, comunque, sono fatta la piastra, non mi sono truccata tanto, ma ho messo, non si vede niente, no, non si vede, scherzavo. Comunque, solo, forse così, comunque, solo mascara e poi un po' di... di fard, ma ok. Sì, sto dormendo. Comunque, un trucco leggero, neanche il rossetto poto mettere, perché devo andare a casa e c'è il mio ragazzo col motore, quindi non ho intenzione di mettermi il rossetto e poi i capelli tutti davanti, quindi tra un po', il tempo che io arrivo a casa e faccio due cosine, se ne va il lucido a labbra, questo di qua, eh, dell'Avon, me lo porto, così poi stasera se scendo lo metto e il malva... carino. Mia mamma stamattina andò a fare la spesa al Sidis e mi ha portato questo qui, che è facendo... facendo un tot, sì, un attimo. Comunque, un tot di spesa, aggiungendo qualcosina, si poteva prendere questo qui. Ed è ottimo, è ovale, è ottimo sia per il freezer che per il forno, il microonde, la lavastoviglie. Ottimo, lo conserverò. Mia madre ne approfitta sempre di prendere queste cosine qui. Allora, niente ragazzi, mi metto le scarpe e scendo. Ci vediamo dopo, o domani, vediamo, tra due secondi. Buongiorno, allora, è domenica 20. Sono già pronta, che sto andando in chiesa, cioè, aspetto il mio ragazzo e vado in chiesa, che c'è la benedizione delle palme. Me ne sono accorta, che guardo, cioè, non guardo... Non guardo qui, ma guardo qui. Cioè, il display, dove io mi rivedo. Comunque, ehi, niente, non vi ho fatto vedere un granché, anzi, vi ho preso un pochino di riprese quando ero in cucina a casa mia, ma l'ho dovuto fare così corta perché c'era mio padre, c'erano i miei suoi, c'era il mio ragazzo, c'era il muratore, e ho detto, vabbè, quello che posso girare è questo, lo giro lo stesso, non è un problema. E anche perché c'è un macello in giro, quindi ho fatto vedere il pochissimo accumulato, ma... Se vi devo far vedere tutte le stanze, a prescindere che non uscivo più, perché, naturalmente, dovevo aspettare l'oro, perché non dovevo riprendere l'oro e tutto quanto, ma poi, anche perché c'era il disordine, non ho intenzione di farvi vedere il disordine. Comunque, niente, ragazze e ragazzi, a dopo. Devo scappare, sono le nove e mezza. Dimenticavo. Ve lo farò vedere. Questo qui è il tiramisù al pistacchio, la crema di pistacchio. Qua non sembra verde, o almeno penso che non sembra verde. Comunque, buona! E mia mamma ha fatto anche la pasta con le lasagne. Ieri non ho registrato più, perché praticamente sono andata da una mia amica che aveva partorito, e io ancora non sono andata, quindi ci sono andata. E niente, ragazze, ci diamo dopo. Scendo.